A volte un giorno inizia senza che ci aspettiamo alcunché e le cose vanno di male in peggio. L'oscurità incombe. Nessuno ti comprende. Il mondo è un congegno sordo. Senza senso né ragione. A volte aspetti. E aspetti. E aspetti. E aspetti. E aspetti. E aspetti. e aspetti, ma niente accade. Poi i tuoi problemi si scatenano tutti insieme. Cose meravigliose si allontanano da te. Destini terribili sono inevitabili. A volte non sai proprio cosa gli altri si aspettino tu faccio. O chi si aspettino tu sia. O dove sei. E il giorno sembra finire. Così come era iniziato. Ma improvvisamente è lì, davanti a te. Chiaro è luminoso. Che ti aspetta paziente. Proprio come lo avevi immaginato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.